Ienne è un comune della città metropolitana di Roma capitale, nel Lazio, i cui abitanti sono detti iennesi e il patrono è San Rocco. Fa parte della comunità montana Valle della Niene. Il borgo sorge su uno sperone di roccia picco sulla vallata dove scorre il fiume Niene, isolata e sospesa nel vuoto, come in un tibet italiano nel parco dei Monti Simbruini, luogo mistico e misterioso, tanto da essere stata scelta dallo scrittore Antonio Fogazzaro come luogo per il romanzo Il Santo, in cui il protagonista Piero Maironi, ortolano nell'abbazia benedettina di Subiaco, si fa chiamare Benedetto e conduce una vita di preghiera e di penitenza, venerato come un santo nel paesino di Ienne. Osservando i luoghi intorno a Ienne, si intupe la sua natura contadina. Storicamente infatti l'area montana del paese veniva intensamente coltivata anche fino a quote molto alte, come ad esempio in località Fondi di Ienne, ampio pianoro carsico, sito a nord del centro urbano, a 1400 metri sul livello del mare. I contadini i pastori sfruttavano l'esposizione a sud del monte Pratiglio garantendosi così ottimi raccolti e generosi pascoli. L'origine del nome Ienne è difficile da individuare e si perde, per dirla con Fogazzaro, sepolta nella caligine dei secoli. Secondo alcuni deriverebbe dal latinoianua, ossia ingresso, porta, ad indicare la posizione dominante dell'abitato sulla valle della Niene. Altre fonti invece ne indicano l'origine della parola Genna, traducibile come luogo freddo, o anche Genna, le porte dell'inferno. Quest'ultima possibilità sembra la più accreditata e sarebbe suffragata, secondo alcuni, proprio dal nome delle profonde grotte carsiche ai piedi del monte Pratiglio, sulle cui pendici giace il paesino di Enne. Grotte che si chiamano appunto Grotte dell'Inferniglio. Difatti la prima citazione storica della località è riscontrabile in una pergamena fatta redigere da Papa Leone IX, la quale conferisce il toponimo di Fundus Genna all'abbazia di Subbiaco e alle sue pertinenze, i suoi monti, i colli e i luoghi egressi. Il primo documento che cita Ienne è un atto di donazione che il Papa Leone IX fa del paese al monastero penettino di Subbiaco, quindi. In tale occasione l'abbate del monastero Umberto I nel 1052 pose una lapide di marmo con l'epigrafe Castrum Iennarum davanti all'ingresso del monastero di Santa Scolastica, citando quindi Ienne tra i possedimenti del monastero. Del castello rimane la cappella di Santa Maria in Arce con gli affreschi del 200 e una terracotta della Madonna del 500. Lungo la Niene c'è il mulino comunale che risale all'inizio del 900 e la mola vecchia che fu edificata dai monaci benedettini nel 1000, nei pressi in cui la Niene forma una conca paludosa in località inferniglio. Della mola rimangono la stanza della molitura e l'inferno del carcerario. Una peculiarità naturalistica di Ienne è senz'altro la varietà di ambienti tipici dell'appennino centrale, lungo il fiume Niene che si snoda in una valle tortuosa e profonda dominata dal paese e dalla sua piccola rocca abbaziale, fluendo verso Subiaco, nelle acque del quale oltre alla trota fario, tipica di questi luoghi, c'è il gambero di acqua dolce, noto indicatore biologico della purezza delle acque.